Questo programma è offerto da... Amici cacciatori veri, bentornati a questo nuovo appuntamento con la nostra rubrica Test Armi da Caccia. In questa puntata che segue quella dedicata alla Blaser R93 vi parlerò delle mie esperienze sul campo con la Blaser R8 Professional in calibro 9.3x62 Mouser che ho testato a caccia di ungulati. La carabina Straight Pull Blaser R8 rappresenta il livello massimo raggiunto nel campo delle carabine a ripetizione manuale della famosa casa tedesca, soprattutto in temi come l'affidabilità, la sicurezza, la precisione, il design, l'ergonomia e la modularità. Infatti i tecnici della Blaser con il proposito di offrire sul mercato una carabina veramente innovativa, oltre che altamente competitiva, nel 2008 hanno iniziato la progettazione della R8 sulla base della già eccellente R93. Partendo quale primo obiettivo dal gruppo caricatore e scatto che sono stati concepiti come un unico blocco assieme al ponticello guardamano. Per lo più è totalmente estraibile tramite due pulsanti integrati nel blocco stesso. In tal modo una volta estratto il blocco l'arma è totalmente in sicurezza. Questa soluzione ha conferito all'arma un livello di sicurezza notevolissimo. E' il nuovo caricatore integrato al gruppo scatto, tra l'altro dotato di selettore di peso a due posizioni, caccia e tiro sportivo, con peso di sgancio prefissato rispettivamente a 650 e 450 grammi. Con il proposito di rendere più comodo e sicuro possibile il tiro stesso e l'acquisizione del bersaglio con la nuova R8, anche la calciatura è stata oggetto di particolare studio ergonomico. Ma più che altro Blaser ha messo a punto una serie completa di calciature sia in legno che in materiali sintetici per venire incontro a tutte le numerose esigenze venatorie di tiro sportivo dei cacciatori e dei tiratori di tutto il mondo. La versione da me testata a caccia è la Professional con calciatura standard in sintetico nero monopezzo infrangibile e termostabile anche a temperature estreme. Con canna standard da 52 cm di lunghezza molto equilibrata per la caccia imbattuta, alla cerca e di selezione per i tiri corti e medi. La lineare ripetizione dei colpi in posizione di mira, tipica degli straight pull, rende possibile in postura rilassata una rapida successione di tiro nel momento in cui la situazione lo richiede. Fatto questo molto importante sia in caccia imbattuta che per il recupero dei selvatici feriti o anche nel big game hunting, magari su animali pericolosi. Per questo motivo la leva dell'otturatore è stata posizionata in una ideale posizione ergonomica sopra il ponticello. Arma ed occhio restano così puntati fissi sul bersaglio con il vantaggio che il cacciatore guadagna tempo per una mira precisa ed un tiro sicuro. In una posizione ideale sopra il ponticello sono stati posti anche i grossi tasti dello sblocco del caricatore, i quali possono essere facilmente azionati anche alla cieca. Con la contemporanea pressione di entrambi i tasti il caricatore viene espulso mediante la forza di apposite molle cadendo direttamente in mano al tiratore. Inoltre il caricatore stesso può essere riempito spingendo dall'alto verso il basso le munizioni, rendendo non più necessaria l'introduzione delle munizioni sotto le labbra del caricatore. Il caricamento è quindi reso estremamente facile anche quando il caricatore si trova ancora nell'arma, determinando un grosso vantaggio nella pratica venatoria. La sua capacità è di 5 più un colpo per i piccoli calibri, 4 più uno per i calibri standard e 3 più uno per i calibri magnum. Altra innovazione è l'illuminated control opzionale, abbinato al canocchiale di puntamento Zeiss, con il quale si coniuga il controllo dell'illuminazione del reticolo con l'uso diretto dell'arma. Armando l'R8 il punto luminoso viene infatti attivato automaticamente con l'ultima intensità luminosa impostata. Quindi è sufficiente un solo movimento della mano per rendere l'R8 armata e pronta al tiro e completamente funzionante con la funzione red dot del canocchiale. Altra qualità dell'R8 sono le canne martellate a freddo e la camera di scoppio anch'essa martellata, con le quali si ottiene un'elevata precisione di tiro. La canna è infatti alloggiata nella massiccia carcassa dell'R8 tramite due piloni e un recoil lug che si accoppiano con una basetta integrata, scongiurando eventuali deformazioni del legno, del calcio dovute all'essiccazione o all'umidità. Con questo ottimo sistema di accoppiamento, canna, azione e calciatura diventano un'unica unità massiccia garante di una notevole precisione. In più si deve considerare che il canocchiale viene montato direttamente, tramite appositi attacchi a sgancio rapido, direttamente sulla culatta della canna, aumentando così ulteriormente il livello di precisione ottenibile dall'arma e dalla sua fruibilità. Infatti i quattro alloggiamenti, poco evidenti nell'ambito della canna, posizionati sopra la camera di scoppio, ospitano l'attacco monolitico senza creare tensione, conferendo quindi alla canna di oscillare liberamente e conservare anche in caso di forte riscaldamento dovuto magari a un'elevata intensità di sparo, la sua posizione di mira. Con pochi movimenti il canocchiale di puntamento può essere facilmente montato e smontato in pochi secondi, mantenendo una ripetitività di assoluta precisione. A concorrere a tale robustezza vi è anche l'otturatore estremamente forte, a sopporto omogeneo, posizionato direttamente nella canna e privo di movimento rotatorio, subito dietro la camera di scoppio. Questo modello a collare radiale Blaser assicura, oltre all'alloggiamento e alla qualità della canna, un apporto decisivo alla precisione di tiro. Nella ricerca estrema della precisione, Blaser ha studiato e disegnato il dorsale del calcio dritto dell'R8, il quale invia in tal modo quasi orizzontale il rinculo dell'arma alla spalla, limitando così la percezione dell'energia di rinculo in maniera minima. Attraverso il limitato rilevamento verticale della volata della canna, si riesce a osservare meglio le reazioni al colpo del selvatico. L'impugnatura a pistola dell'R8, particolarmente angolata e con profilo modellato sulla forma della mano, garantisce una presa assai rilassata e quindi un tiro controllato e più preciso. La sicurezza non poteva essere naturalmente un fattore da trascurare, per questo la Blaser ha progettato l'R8 in modo tale da essere trasportata con la molla del percussore scaricata. Solamente poco prima dello sparo si sposta in avanti il cursore d'armamento con una pressione del pollice, caricando in tal modo la molla del percussore. Nel caso non si voglia sparare è sufficiente premere sul cursore d'armamento per ricondurlo nella sua posizione di riposo, scaricando così la molla del percussore. Il sistema ad armamento manuale Blaser è infatti riconosciuto come uno dei migliori in fatto di sicurezza nelle armi da caccia. Con l'arma insicura e l'otturatore chiuso, la leva dell'otturatore è bloccata al fine di evitare l'apertura accidentale dell'otturatore stesso durante l'esercizio della caccia. Il fermo della leva dell'otturatore può essere disattivato semplicemente spingendo il cursore di armamento per circa 3 mm fino alla prima resistenza percettibile e tirando indietro contemporaneamente la leva dell'otturatore. Così facendo, cosa succede? L'otturatore non viene armato. Inoltre, se il caricatore viene estratto ad arma carica, si sgancia il cursore d'armamento che ritorna quindi nella sua posizione di riposo, rendendo così impossibile la partenza accidentale del colpo rimasto in canna. Un fattore di sicurezza importantissimo nel caso ci si dimenticasse una cartuccia in canna è dovuto appunto a questo sistema. Nell'ambito di varie serie di prove effettuate da DEVA, l'R8 è stato sottoposto a carichi di oltre 14.500 bar, senza che fossero riscontrati danni esteriori visibili. Si tratta della maggiore pressione di gas mai applicata da DEVA per collaudare un'arma da fuoco. Da quanto risulta lo stato attuale della tecnologia non è possibile effettuare misurazioni relative alla pressione di gas oltre alla pressione applicata in questo test davvero estremo. Collocando il caricatore al di sopra del grilletto si accorcia mediamente la lunghezza dell'R8 rispetto alle carabine a ripetizione convenzionali di circa 9 cm. Un vantaggio questo importante nella maneggevolezza dell'arma e non solo su terreni difficili. Proprio in tema di maneggevolezza l'R8 eccelle davvero, grazie soprattutto all'ottimale equilibrio trovato da Blase tra la lunghezza complessiva, la massa totale e il bilanciamento della calciatura. L'equilibrata distribuzione dei pesi sappiamo benissimo che favorisce il maneggio intuitivo e l'imbracciatura veloce e confortevole di un'arma. Ultimi tre punti nei quali desidero soffermarmi sono il peso, la praticità d'uso e la protezione. L'arma testata in questa configurazione pesa appena 2,750 kg, il che darebbe da pensare seriamente se rapportato al calibro camerato il 9.3x62 Mauser, ma non è così. Infatti nonostante il suo peso davvero limitato, il rinculo e il rilevamento della carabina sono assolutamente gestibili e tali da non compromettere né la precisione né il comfort. Un risultato che ritengo degno di grande nota e che va a merito di una calciatura e di una ergonomia generale davvero ben progettata e realizzata. Il doppio tasto di sblocco protegge il caricatore in maniera affidabile dall'azionamento involontario e quindi anche dall'espulsione accidentale. È possibile quindi inibire i tasti del caricatore mediante un cursore di bloccaggio posizionato all'interno del caricatore stesso. In tal modo il caricatore non può più essere estratto. In situazioni di caccia in zone impervie o estreme si ha così una sicurezza aggiuntiva contro la perdita accidentale del caricatore. Per quanto riguarda la protezione, tutti i componenti metallici dell'R8 sono realizzati o in materiale inossidabile oppure protetti dalla corrosione con speciali finiture ultraprotettive. Il sistema costruttivo chiuso dell'otturatore dell'R8 impedisce per lo più l'intrusione di corpi estranei. Ogni caricatore viene fornito con una copertura protettiva di colore nero che impedisce che quest'ultimo si sporchi quando viene custodito all'esterno dell'arma. A caricatore estratto, l'alloggiamento del caricatore può essere chiuso con l'apposita copertura di colore nero, compresa nel volume di fornitura. Al fine di impedire totalmente alle condizioni atmosferiche di condizionare l'uso dell'R8, la Blaser ha studiato altri accorgimenti per il gruppo del grilletto dell'R8, il quale funziona in maniera servoassistita, sia quando si spara, sia quando lo si riporta nella posizione di riposo. Azionando il grilletto si ha lo svincolo meccanico del percussore. Aprendo l'otturatore il grilletto viene obbligatoriamente spinto nella sua posizione di partenza. Le canne dell'R8 sono intercambiabili e sono disponibili, pensate, in ben 40 diversi calibri divisi in tre categorie, la Mini, la Standard e la Magnum. Per adattare la propria canna alle due altre categorie è sufficiente sostituire la testa dell'otturatore, operazione questa che si realizza in soli 15 secondi. La testa dell'otturatore è stata ridisegnata nell'R8 con un profilo posteriore delle alette di chiusura perpendicolare alla sede entro la quale le alette di chiusura si aprono, per cui le canne dell'R8 non sono compatibili con quelle dell'R93 e viceversa. L'intercambiabilità delle canne nell'R8 rende possibile cacciare con l'arma abituale, con gli elementi funzionali, consueti e la stessa calciatura, tutti i tipi di selvaggina in tutti i continenti. Viceversa, le canne dell'R8 possono essere abbinate ai vari tipi di calci e o di carcasse previste in catalogo dalla Blaser. Ogni canna è predisposta di serie per l'attacco a sella originale Blaser. Pertanto è possibile montare ed utilizzare vari canocchiali di puntamento e altri tipi di mire complete, va bene a punto rosso, su una stessa canna. La canna del nostro esemplare in prova è naturalmente dotata di mire metalliche con inserti bianchi ad alta visibilità e in volata di canna è presente un anello speciale di inserimento per il nottolino della cinghia di trasporto del tipo particolarmente gradito ai recuperatori, quindi con ampia fascia. Come canocchiale ideale per gli impieghi previsti dal mio test ho scelto il nuovo Leica Magnus 1.6.3x26 mm con reticolo German 4 dotato di punto centrale illuminabile. La munizione utilizzata per questo test è stata da me scelta in previsione delle specie insidiate, delle tecniche di caccia impiegate e alle distanze di tiro previste. Dato che avrei tentato comunque di cacciare tutti e quattro gli ungulati previsti dal mio piano di abbattimento ossia capriolo, daino, cervo e cinghiale a distanze variabili tra i 5, i 130, i 150 metri in appostamenti fissi e da battuta come appunto anche alla cerca, alla fine la mia scelta è caduta su una cartuccia commerciale davvero tutto fare e cioè la Blaser CDP da 18,5 g. Il proiettile CDP è un doppio nucleo con sezione anteriore particolarmente rinforzata quindi ad espansione controllata che viaggia a 720 metri al secondo alla bocca pertanto una ogiva capace di offrire un potere d'arresto eccezionale ma nel contempo garantire un notevole rispetto della spoglia fatto assolutamente necessario visto che mi sono trovato a cacciare anche il piccolo capriolo con un calibro decisamente sovradimensionato. La CDP è un proiettile boattail il quale garantisce anche una certa tensione nella traiettoria un fatto che mi ha permesso di azzerare l'arma a 100 metri di distanza e poter affrontare tiri anche più lunghi senza dover applicare eccessive correzioni. E adesso dopo avervi descritto le caratteristiche essenziali della R8 e sulla configurazione utilizzata per il mio testo sul campo andiamo subito appunto al campo di tiro dell'importatore ufficiale per l'Italia la JAUAG di Marlengo per le operazioni di azzeramento dell'arma e poi sui campi di caccia. Buona visione e buon divertimento a tutti! Ecco siamo al tunnel dei 100 metri di distanza qui il tunnel della JAUAG a Merano, i pressi di Merano io voglio azzerare la Blaser R8 da recuperatore in 9x3x62 a 100 metri d'accordo? Bene, adesso dopo aver pre-azzerato con delle norma ORIX e adesso dopo aver pre-azzerato con delle norma ORIX faccio il vero azzeramento con le cartucce che porterò a caccia che sono le Blaser CDP come potete vedere da questa scatola originale d'accordo? sono proiettili che vanno a 720 metri al secondo quindi delle soft point a doppio nucleo tipo partition come potete vedere qua in questa scatola diciamo che sono proiettili da 18 grammi e mezzo ecco qua, adesso faccio una rosata di tre colpi ecco qua, ecco qua, ecco qua ecco questa che vedete qua è la rosata di tre colpi che ho fatto a 100 metri con la Blaser R8 Professional da recuperatore utilizzando le stesse munizioni che porterò a caccia che sono le Blaser da 18 grammi e mezzo corrispondenti a 285 grani è una rosata che per un calibro così direi che è eccezionale soprattutto perché poi la canna è una canna corta quindi non è un 9x3x62 per il tiro a lunga distanza è per il recuperatore però guardate qua e giudicate voi questo è un proiettile che è la prima volta che lo testo e quindi sono già abbastanza fiducioso perché è un doppio nucleo tipo partition che quindi sicuramente per l'impiego sul dino il cinghiale e il cervo lo ritengo sulla carta eccezionale però lo portiamo a caccia e poi valuteremo le cose comunque bellissimo sono molto soddisfatto di questa rosata ho scelto un posto piuttosto strategico mi trovo praticamente sul versante opposto di una tagliata giovane dove transitano spessissimo oltre ai caprioli anche daini e cervi per cui adesso mi sono posizionato un po' defilato rispetto al vento perché vorrei vedere gli animali uscire dal bosco che circonda questo tagliato in modo da avere il tempo per potermi piazzare al meglio poi per il tiro perché questa è una tagliata giovane piuttosto aperta quindi ho dovuto scegliere un posto un po' riparato e un po' defilato il vento me lo sono studiato bene e credo di aver trovato la posizione giusta bene andiamo a vedere che cosa succede è uscita una capriola una bella capriola in fondo alla tagliata ora mi da circa 182 metri adesso ci provo perfetta l'ho presa l'ho mirata al collo perfetta l'ho presa l'ho mirata al collo e l'ho vista crollare e è andato tutto bene perfetto eccola la capriola alla quale ho sparato mi si è presentata a circa 180 metri quindi ho dovuto compensare un po' il tiro di circa 7 8 cm ho fatto un rapido calcolo il che è abbastanza semplice a questa distanza naturalmente essendo un capriolo ed essendo il calibro molto esuberante ho ritenuto opportuno sparare nella zona del collo questo che vedete è il foro di uscita ovviamente in modo da non danneggiare troppo la spoglia e già che ci sono sull'argomento devo dire una cosa che quando si tira con 9.362 su animali così piccoli è chiaro bisogna usare dei proiettili molto duri come questo CDP della Blaser che è un doppio nucleo e poi sicuramente la distanza di tiro è già abbastanza notevole per un calibro come questo rende la palla diciamo il proiettili più duro espande meno rispetto a quanto espanderebbe se sparassi a corta distanza quindi c'è da fare un po' di attenzione quando si caccia il capriolo con questi calibri di indirizzare il colpo non proprio alla spalla per non danneggiare troppo la spoglia e di cercare di piazzare comunque sempre il colpo nella migliore delle maniere sono intanto soddisfatto per questa partenza di questo test della R8 e adesso stasera vedremo se riesco a cacciare qualche un gulato più grande come un cinghiale, un cervo o un dai bene alla prossima adesso proseguo il test in un'altra situazione leggermente diversa sono in una tagliata vecchia dove nei giorni scorsi ho visto parecchio movimento di caprioli e di daini quindi volevo vedere se riuscivo ad azzeccarla perché con i daini è sempre un problema sono animali nomadi per cui ho visto che escono abbastanza presto quindi magari qualche speranza oggi ce l'ho niente vediamo come va la giornata e poi tra poco vi saprò dire come va per ora tutto tace ancora qua sulla mia destra sotto questo tagliato c'è una bella vigna devo tenere anche sott'occhio questa parte perché ci sono dei buchi nelle reti ed è facile che qualche animale ci vada dentro perché c'è un prato all'inglese in queste vigne quindi è facile anche che ci riesca a beccarceli anche lì vediamo un po' è uscita una femmina con un giovane nel tagliato vecchio sotto la vigna ora tento di tirare credo di avere l'ho preso bene perché l'ho visto fare è un salto in avanti e quindi penso proprio di averlo preso ora aspettiamo 15 20 minuti e poi vado a vedere ma sono sicuro sono sicuro di averlo preso eccolo qua il piccolo dell'anno maschio come potete vedere ci ha appena accennati il il mini trofeo sembra anche non rovinato assolutamente ho tirato dietro alla spalla solito discorso che vi avevo fatto con l'altro abbattimento e anzi con questo capo ha maggior ragione un capo molto piccolo per un calibro come il 9.3 per 62 però o cdp in questo caso come la blazer si possono anche usare calibri molto pesante per il per il prosegue di questo test con la blazer r8 adesso ho scelto adesso ho scelto è molto buono perché dovrei riuscire a vedere quando escono dal bosco e dalle rimesse e si portano verso questo insoglio verso questo fosso passando attraverso questa tagliata che essendo di due anni loro si sentono un po' protetti ad attraversarla perché non è proprio pulita non lo so come andrà però dovrò stare in un punto piuttosto nascosto perché la parte dove sono io è più pulita per cui è più facile che loro mi vedano per cui devo stare immobile e soprattutto per il primo tratto li devo lasciar passare perché se alzo la carabina o se faccio dei movimenti mi vedono purtroppo ho cercato di studiare un altro sistema un altro un altro punto dove mettermi ma sono tutti peggio di questo quindi dovrò mettermi una mascherina e stare immobile fermo zitto vediamo via se è una situazione di caccia che mi piace molto però insomma non è non è facile vediamo vediamo che succede è andata è stata una bellissima azione un'azione di caccia molto bella perché sono stato come avete visto in agguato in questo tagliato ho aspettato il momento giusto ho visto il branco che usciva sono stato fermo immobile perché si erano accorti di qualcosa e non ho potuto accendere ovviamente la telecamera non ho potuto fare niente li ho sentiti all'ultimo momento però li ho lasciati sfilare piano piano e poi avevo visto che questo animale era l'ultimo del gruppo per cui ho aspettato ho saputo aspettare poi è stato un tiro di un centinaio di metri non di più e finalmente ho un animale bello con la mia blaser R8 e niente sono molto soddisfatto e spero nel proseguo del test di riuscire a prendere magari un animale ancora più grande chi lo sa vedremo a presto io credo di aver trovato un posto molto promettente per il dino perché sinora ci ho provato ma gli animali sono molto elusivi e nei posti dove sono stato escono parecchio a buio invece qua mi sembra di aver capito di aver trovato un posto dove gli animali non è che escano più con la luce ma perlomeno ho trovato un posto dove intercettarli un po' prima devo prepararmi un po' c'è molto traffico ci sono viottoli molto battuti fra due olivete e un bosco qua davanti quindi stasera ci provo però più che altro nutro più speranze per domani mattina io praticamente mi apposterò qua e a buio entrerò qua e darò un'occhiata a questo oliveta che sta esattamente fra due boschi quindi dovrei trovarli qua però alla mia sinistra e alla mia destra ho due viottoli che sono contrassegnati da un muro da un muro che è lungo circa 500 metri io mi sono piazzato qua praticamente in zona strategica perché gli animali comunque anche se non li vedo nell'uliveta dovrei riuscire a sentirli quando passano queste ginestre perché si fa rumore ci sono tante foglie secche e quindi magari prepararmi a un tiro bruciante è una possibilità perlomeno per domani mattina per stasera spero che escano dal bosco a un'ora decente mi ha allungato parecchio mi ha allungato parecchio stavolta mi ha fatto un'ottantina di metri forse anche di più è uscita al buio e erano 4 o 5 animali e ho avuto il tempo giusto di valutarli e di alzare la carabina e sparare ho sentito il crack del proiettile però non è andata giù subito però ho visto che arrancava ho aspettato una mezz'oretta, tre quarti d'ora poi ho visto altri due animali giù nel campo quindi mi sono attardato non mi hanno dato il tiro e poi praticamente dopo 40-45 minuti che avevo sparato ho seguito la traccia di sangue che all'inizio praticamente era inesistente c'era qualche cosina e poi è venuta a sedersi qua sotto questo muro però insomma è stata una bella azione anche se ho avuto per un po' il sospetto di non averla presa bene e che magari mi toccava chiamare il cane da sangue però insomma 9,3 per 62 a questo punto il nostro test con la Blaser R8 è terminato abbiamo completato praticamente tutta la serie di ungulati che avevamo previsto e che non era detto che riuscivamo a farle abbiamo fatto i caprioli, abbiamo fatto il cervo, abbiamo fatto il dino quindi in conclusione devo dire che mi sono trovato splendidamente certo è un'arma e un calibro non per tiri lunghissimi però qui basta cambiare la canna e la configurazione cambia totalmente e quindi con un'unica arma si possono fare più tipi di caccia dove i tiri sono corti e medi è un'arma incredibile che può essere usata anche per i recuperatori e infatti vi rimando alla puntata dedicata alle armi per i recuperatori dove vedrete quest'arma in azione a presto grazie a tutti grazie a tutti